Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, coda tra Valdarno e Incisa Reggello per traffico intenso. Fare attenzione, prevista neve sul tratto appenninico. Sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti tra Firenze e Viadotto dell'Indiano e la Strassigna. Sulla Statale Trebis-Tiberina, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Valsavignone e Canili. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!